Il corso Comunicazione e Stackholder Theory II, IA e processi comunicativi offre strumenti avanzati per creare modelli di comunicazione dialogici, favorendo l'engagement degli Stackholder e relazioni sostenibili. Attraverso l'uso dell'IA, i partecipanti impareranno a gestire i feedback in modo efficace, sviluppando strategie di comunicazione allineate ai valori aziendali e alle aspettative degli Stackholder. Questo approccio innovativo promuove trasparenza, fiducia e partecipazione attiva, superando i tradizionali trade-off e contribuendo alla costruzione di un ambiente aziendale coeso e responsabile. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.